In Italia sette donne hanno perso la vita, sono state ammazzate dai loro partner o dai loro ex partner. In Europa contiamo ogni sei ore una donna che viene ammazzata e questa mattanza deve terminare. Per questo noi stiamo lavorando a questo testo, che è un testo molto importante. Abbiamo appena terminato la riunione del gruppo dei socialisti democratici, che è andata molto bene. Il testo è stato molto apprezzato, quindi per il momento sono molto soddisfatta. Non ci resta di aspettare il voto che ci sarà giovedì mattina e la discussione in plenaria che potrete seguire anche dai canali del Parlamento europeo che ci sarà domani pomeriggio. Continuiamo a lavorare e a sperare per raggiungere questo importantissimo, io credo, obiettivo per le donne italiane e per le donne europee.